Nella giornata di ieri, in esecuzione dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato tratto in arresto GM di anni 62 residente a San Marco di Castellabate. L'uomo, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e durante la pendenza di un processo penale a suo carico per i reati di atti persecutori e lesioni personali commessi in danno di una giovane e donne del marito, si era reso responsabile di ulteriori molestie nei confronti della vittima e del suo nucleo familiare. Le vittime dunque, già costituitesi parti civili nel processo e assistite dall'avvocato Nicola Bonora, hanno denunciato gli ulteriori episodi persecutori posti in essere dallo stalker, che hanno portato all'aggravamento della misura cautelare. La vittima, FM, unitamente al marito e alla figlia minorenne, da oltre un anno è costretta a subire molestie telefoniche, pedinamenti, minacce ed aggressioni fisiche da parte del 62enne, il quale, incurante delle precedenti misure restrittive e della pendenza del processo a suo carico, ha continuato a perseguitare l'intero nucleo familiare della giovane donna. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Alfredo Greco e dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, operanti su delega della Procura della Repubblica, hanno portato all'adozione di una misura restrittiva più grave nei confronti dello stalker, che da tempo ormai fa vivere nel terrore un'intera famiglia condizionandone le abitudini di vita, una vicenda che purtroppo drammaticamente assomiglia a tante altre.